Che vuoi, Plague? Ciao, abbiamo un problema Cioè? Riguarda Teleborian, sia nell'hard disk che nella posta elettronica non ho trovato niente Come niente? Niente su di te o sul processo L'unica cosa di qualche interesse sono due mail indirizzate a un certo... Sì, Jonas, tramite hotmail PP1, tutto ok, arriva tra una settimana E la data è il 20 settembre scorso L'altra invece dice PP2, tutto ok, pronta domani PP1 e 2 potrebbero essere perizie psichiatriche, no? Certo, è possibile Documenti allegati? Nessuno Se ha spedito qualcosa, non ha usato il computer del lavoro Scommetto che utilizza un computer portatile e una connessione mobile È un po' difficile da violare Ma non è impossibile? Niente è impossibile per chi sa aspettare Terrò d'occhio la sua casella postale Sì, non mollare Ok, però tu non mi chiamare Manda un sms e una mail Ok, ciao Ciao Cazzo 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 Cazzo